chi è secondo ma ale vai ad aprire diventando sempre più figo nel tragitto cosa ti hanno detto cose brutte ma figo la faccia che devi avere il coraggio ragazzi vai dai non mi toccare scusami un attimo così così autostima a mille credici si sia il ciuffo il ciuffo il verde va di moda vai vai guarda così ale che figo che sei così no no non tocchi te li tagli hai visto che arrivava chissà chi sarà non c'era la foto io dico che figa la prima cosa che mi dirà no buonasera buonasera come stai bene piacere ma buonasera per curiosità ma che c'ha a te sta facendo per capire perché si risponde ciao ma che piacere ma che piacere ma che non ti sei iscritto a tua donna santa ma guarda elisabetta sei emozionata e ti presenti come si fa a me scalabria comunque sono veramente emozionata questa sera di essere qui sì scusate sono calabrese perché non lo sapessi ok mancava landui a mano ci sono veramente emozionata emozionata mi viene caldo che sono emozionato si si è ideato di essere qui di vedervi dal vivo tutti quanti siediti tutto a posto si è abbastanza chi è quello che ho io sono elisabetta vengo dalla calabria sono nata a savurato e non però il mare bellissimo tu sei stato sì No, ma ci voglio andare. Devi venire con me. Vengo su. Ale, quanto ti piace? È uguale alla tua prof di greco e ti immedesimi tantissimo. Però adesso hai iscritto lui. No, non voleva farlo. E quindi tu non ti sei iscritto? Ma non mi sei iscritto. Ma non mi sei iscritto. Ma in Calabria c'è roba buona. Eh, vedo. C'è? Ma c'è roba buona. Posso domani io? Voglio essere interrogato domani io, per favore. Vengo a che ora? Vengo la prima ora? Alle cinque e un quarto, va bene. Cinque e un quarto è un po' prestino. Ma io mi alzo presto, mi alzo sempre tra i venti. Io a quell'ora vado a dormire di solito, però magari possiamo fare verso le decime e un quarto. Stratis Napolox. Stratis Napolox. Stratis Napolox. Santorini anche, per dirlo. Santorini è bellissima, la Grecia. Naxos. Naxos. Franza e Maria, d'ora in poi, quello che vedete è un film e voi criticate dal divano. Costantinopolis, però, sì. Di Soverato. Soverato. È un bel paese, Soverato. Una spiaggia bianca. Spiaggia bianca. Poi la Calabria, insomma, si mangia bene. Si mangia bene, la Grecia è meravigliosa. La gente è allegra, la gente è allegra. Certo che lui, il schermo è più vecchio, eh. E ha detto il suo nome, scusi? Elisabetta. Elisabetta. I pop-core non sono esplosi. Ultimamente usano degli attori, si vede che non ci sono soldi più quando fanno le fiction. Lei, però, è splendida, eh. Eh, ma secondo me l'ha data qualcuno. Ma non può essere. Ma comunque, se la può consolare. Non è che perché da te non la prendono devi incazzarti con gli altri, eh. E' vero. Io la cerco di darla, non la prende mai nessuno, te lo dico, eh. Senti, sei così. Elisabetta, ti eccita sculaccia reale. Fallo con naturalezza più volte che puoi. Eh. Mi eccita così. Con naturalezza. Ammazzalo, ammazzalo. Ammazzalo, ammazzalo se ti eccita tanto. No. Minchia, assoverato, sono cattivi. Sì, con questa, con questa. Fatti i panni, fatti i panni. Fatti i panni. Qua è che ti do una mano anch'io, ti do una mano. Sei buono tu. Guarda, ti faccio eccitare che neanche... Tieni, mettiti questo. Lo devi eccitare, lo devi distruggere. Fammi vedere se c'è qualcos'altro. Pure se sta già distrutto dalla natura, lo devi... Maria, calma. Vai. Divino a spippo il tutto insieme. Fammi fare il filmino. Mi anestetizzo con la salvia. Questa sai quante visualizzazioni su YouTube? Uè, vatti, meno anche il gatto, guarda. Bang, bang, bang. Ti stai eccitando tu? Franza e Maria, andate ad aprire ma siete due vallette sexy e tonte e Maria se ne esce. Ah, salto il cielo. E quindi, no, Elisabetta, devo continuare. Vuole che le offra un caffè. Un bicchier d'acqua? Scusa. Un bicchier d'acqua? Un bicchier d'acqua, un bicchier d'acqua. Allora, io dico che hanno suonato. Chi? Dove? Mi ha sembrato. Vado ad aprire. Scusa. Sì? Io vado. Ma tu hai fatto la convergenza? No, Madonna, Maria. Che bello di Dio, benedica. Che spara di qua. Andiamo ad aprire? Cioè, io lo sa cos'ha? Tu non devi fare, tu devi togliere. Devo togliere? Sì, sì. Eh sì, Maria, devi togliere un po'. No, lo sai, Maria. Non c'è, ragazzi. Sei bellissima, attenta che cari sul leone. Io mi nasco. Oddio. Io sono acquario, caso sul leone. Oddio, io sono vergine. No, ma chi? Scherzo. No, ma c'è. C'è. C'è.